Come pensavo, la monade mi sembra tornata come era prima che l'apocrifa avesse effetto. No, sembra anche più potente. La monade di Bionis e questa monade. Deve esserci un legame in qualche modo. Perché non sei qui, non più. Perché mi viene in mente quel sogno? Perché proprio ora? Senza il suo potere non posso fermare Egil. Devo concentrarmi. Devo pensare solo a come fermarmi Canis. Se la monade sarà la causa della fine, allora so cosa fare. Fiora! Shulk! Che cosa stavi pensando? Niente di importante. Allora... Devo crederti. Sì, Fiora, non preoccuparti. Ascolta, Shulk. Se per te questa situazione è troppo dura da gestire da solo, parla con me. Fiora. E puoi parlare anche con tutti gli altri. Noi siamo tutti qui per te. Non dimenticarlo. Hai ragione. Sì, è vero. Certo. E... Non strafare, va bene? Abbiamo visto tutti quello che è successo. Il tuo braccio sta bene? Sì. Non c'è male. Sopravviverò. Oi! Voi due? C'è qualcosa che non va? No! Non è niente. Forza! C'è qualcosa che non va? Puoi... Sì